Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi concludiamo finalmente la serie dedicata alle ragazze nei campi scientifici, nei campi STEM e insomma io sono molto emozionata perché questa è davvero l'ultima puntata di un progetto davvero enorme e io spero che vi sia piaciuto, insomma io spero che questo progetto sia risultato interessante anche per voi che insomma seguite tutti questi racconti, avete seguito le varie puntate, ci tenevo davvero tanto a parlarne e come ho detto fin dall'inizio insomma penso che identificare le cause delle mancanze di rappresentazione, delle mancanze di partecipazione delle ragazze nei campi scientifici sia estremamente importante e interessante soprattutto nel mondo di oggi dove ne abbiamo assoluto bisogno. Quindi niente, io direi che continuiamo la serie poi ci vediamo alla fine e davvero io non so come ringraziare tutte le ragazze, già lo faccio ora perché poi dopo lo faremo anche alla fine. Come sempre mi piacerebbe davvero tanto sentire la vostra opinione sotto il video quindi ci vediamo giù nei commenti, ma direi di passare la parola alle ragazze. Ora direi che è il caso di passare a una domanda un po' più agile. Fino ad ora le donne hanno subito una serie di disuguaglianze strutturali e di discriminazioni e di sottorappresentazione all'interno degli ambiti STEM. Cosa pensi che possano offrire in più o comunque di nuovo le donne alla scienza rispetto a quanto abbiamo già raggiunto fino ad ora o come società? In cosa si potrebbe migliorare anche nel piccolo? Onestamente non saprei dire come le donne in quanto genere possano contribuire a questo settore in quanto io non credo nella diversità di genere ma ritengo sia assolutamente assurdo escludere metà della popolazione dal settore scientifico. In particolare uno studio recente ha dimostrato come un ambiente diversificato in cui i componenti del gruppo provengono da background differenti e pertanto hanno anche mentalità, idee e punti di vista differenti possa contribuire a creare un ambiente più rigoglioso dove c'è uno scambio di idee più efficace e i problemi vengono risolti in maniera più interessante e con punti di vista differenti. Pertanto ritengo che sia fondamentale l'inclusione non solo delle donne ma anche di tutte le altre minoranze all'interno del campo scientifico. Io credo che parlare di un qualcosa in più che le donne possano offrire rispetto ai colleghi uomini non sia proprio corretto perché andrebbe ancora di più ad animare i discorsi a cui sono perennemente sottoposta dalle mie colleghe per le quali, tra virgolette, le donne sono migliori degli uomini perché loro non ci arrivano, loro sono fatti così. No, non sono fatti così piuttosto si sono cresciuti in un ambiente in cui la maggior parte delle volte le cose sembrano a loro dovute e direi che anche basta perché altrimenti inizia il pippone sulla disparità nell'educazione tra i due sessi e non siamo qui per questo. Fatta questa premessa credo piuttosto che le donne possano fornire un diverso punto di vista per lo stesso motivo per cui integrare persone con culture diverse aiuti a risolvere i problemi. In scienza, se un problema viene trattato infatti da più punti di vista più velocemente si arriva ad una soluzione. Sono d'accordo con il fatto che le donne più per l'educazione cui sono state sottoposte che peraltro abbiano più empatia più sensibilità. Ma pensiamo al discorso che la cancelliera tedesca Angela Merkel laurea in fisica e dottorato in chimico-quantistica ha fatto i cittadini tedeschi per spiegare il significato dell'indice R0. Non ha mostrato alcun tipo di empatia alcun tipo di emozione nello spiegare un argomento semplicemente ha illustrato un concetto scientifico in maniera estremamente diretta. Per essere compresa pieno infatti la scienza si spoglia di tutte le congetture e i formalismi sociali. Si riduce ad una serie di evidenze di ragionamenti logici, di metodi i quali mettono tutti sullo stesso piano indistintamente. Mi sento così bene quando mi confronto con tutto ciò che è scientifico proprio per questo perché siamo tutti uguali di fronte a lei davanti ai suoi concetti vengono rimosse qualsiasi tipo di distinzione sociale di genere, economica. Per concludere credo che nel piccolo dovrebbe essere promosso nelle scuole superiori un orientamento universitario minato per queste discipline spesso viste come lontane ed incomprensibili cui, soggiunto il pregiudizio se che siano ambiti prettamente maschili la partecipazione femminile risulta il più delle volte molto esigua. In questo senso un'iniziativa che secondo me è molto interessante è il piano lauree scientifiche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Da quando infatti nella nostra università viene promossa questa attività i numeri sono duplicati sia ragazze che ragazzi. Ovviamente questa promozione delle lauree scientifiche ha senso solo se seguita da un approccio più inclusivo allo studio di queste materie. essere pronti in un certo senso a livello culturale a dare imbervenuta a tutte le persone cercando di non far sentire indietro nessuno manti incoraggiare ogni singola persona ogni autostima di questi ragazzi e ragazzi in modo tale che siano coscienti del fatto che hanno tutto il diritto di essere lì e di studiare queste materie. Devo ripremettere che in generale anche nella mia facoltà sto vedendo soprattutto durante la triennale un numero crescente di ragazze e di questa cosa sono molto contento. Tuttavia la mia facoltà ha un numero ristretto di ragazze rispetto a quelle di altri ambiti come possono essere quelle delle biologie applicate delle biotecnologie gli ambiti farmaceutici e chimici e questo è secondo me ed è quello che bisognerebbe fare per invogliare le ragazze ma in generale invogliare un po' tutti e avere un senso pratico un approccio pratico alle cose cioè per esempio sarebbe carino se nella vita di tutti i giorni anche le ragazze potessero mettersi magari e sistemare non lo so il lavandino sistemare le piccole perdite che si hanno in casa semplicemente perché per esempio soltanto perché uno è una bambina magari non deve aiutare il padre a farsi aggiustare il tubo che perde o per esempio la caldaia anche lì ci vuole un approccio pratico soprattutto perché sono cose tutti i giorni che bisognerebbe saper fare ma che magari siccome una ragazza è una ragazza e allora a queste cose non gli viene data importanza e ti dice vabbè non c'è bisogno che tu le faccia non ti preoccupare invece secondo me proprio facendo queste piccole cose anche lì viene stimolata dalla curiosità e all'approccio a capire cosa ci possono essere dietro queste cose ecco secondo me è quello perché comunque in ambito scolastico ci sono le professoresse di matematica le professoresse di fisica quindi non è quello il problema personalmente secondo me invogliare all'approccio pratico perché è quello che magari a noi sfugge secondo me la domanda non dovrebbe essere cosa possono fare le donne per la scienza ma bensì cosa può fare metà della popolazione mondiale che è sempre stata tagliata fuori da un ambito di grande ricerca per la scienza ecco questa domanda forse rimette un attimo le cose in prospettiva nel momento in cui tu escludi volontariamente o involontariamente le donne da spazi di dialogo scientifico non escludi solamente le donne in quanto tali ma bensì escludi una grandissima quantità di pluralità di visioni di punti di vista di idee in questo caso da parte di persone con background ed esperienze di vita sicuramente diverse e che quindi possono veramente dare un punto di vista innovativo nuovo comunque degno di essere ascoltato e discusso tagliare fuori in qualsiasi modo le donne dai campi dello stem vuol dire sia portare avanti anni secoli di sessismo e discriminazioni ma vuol dire anche rallentare il progresso rallentare la discussione e renderla in sostanza più povera personalmente io credo che un buon punto di partenza per risolvere la situazione sia cambiare la mentalità dei più piccoli portare quindi esempi di rappresentazione positiva in ogni ambito in particolare nelle scuole elementari e nelle scuole medie questo perché magari una bambina dell'elementaria è estremamente portata per l'ambito scientifico nonostante questo non vede nessuno come lei non vede nessun punto di riferimento non vede nessuna possibilità quindi nella sua testa nasce in modo automatico il messaggio quello spazio non è per me perché non c'è nessuno come me ad occuparlo penso che le donne possano dare un apporto alla società in quanto persone in quanto esseri umani perché una donna è un essere senziente che è esattamente quanto un uomo può dare un apporto che sia nel campo della scienza della ricerca della letteratura della politica in generale in qualsiasi campo di attualità oltretutto una delle critiche che vengono spesso mosse alle donne e che dovrebbero essere relegate più al campo creativo perché sono più creativi degli uomini io personalmente credo che la ricerca e la scienza siano due campi in cui la creatività è fondamentale basti pensare a tutti i brevetti che vengono depositati ogni anno la creatività per un inventore è fondamentale quindi quella critica non dovrebbe nemmeno essere posta e poi anche partendo dal presupposto che le donne abbiano un modo di pensare diverso da quello degli uomini che in media può anche essere vero non lo metto in dubbio è un po' come avere della diversità è un po' come una diversa cultura il fatto di avere dei pensieri complementari è sempre qualcosa di positivo perché può far venire in mente delle idee che da soli non avremmo avuto ad esempio una cosa che mi è capitata spesso di sentire quando mi è capitato di partecipare agli escape game è che le squadre che vincono nel miglior tempo o che vincono più in generale sono quelle composte da due uomini e due donne proprio perché il modo complementare di ragionare permette di risolvere i problemi in modo più efficace quindi semplicemente secondo me le donne possono dare un apporto in quanto persone beh dal punto di vista prettamente scientifico il nostro contributo è assolutamente paragonabile a quello degli uomini cioè a quello degli uomini a parità di notere di fattori a parità di preparazione a parità di studi a parità anche un po' di predisposizione ma quella non penso che dipenda dal fatto se un uomo o donna dipende da se un argomento ti appassiona oppure no se stai più o meno portato a un certo tipo di ragionamento però mi sembra che questo tipo di caratteristiche siano distribuite in modo abbastanza paritario tra uomini e donne una cosa su cui vedo che sarebbe importante lavorare e forse in questo noi donne potremmo dare un contributo è che spesso l'ambiente dell'università dei centri di ricerca è un ambiente che tende ad essere molto estraneante molto impersonale e questa cosa è molto ridicolosa perché è anche un ambiente altamente immersivo cioè è un tipo di lavoro che lascia poco spazio al resto della vita tendenzialmente anche perché se lo fai dopo un certo livello tendenzialmente sei anche molto appassionato di quello che fai e quindi tendi a avere una parte del cervello che rimane sempre con quella cosa lì e io assolutamente funziono così assolutamente e penso che un contributo importante sarebbe quello di come dire di di rendere più umano l'ambiente nel senso proprio di rapporto tra persone sarà che un po' per ruoli di genere non lo so come donne siamo sempre state un po' educate a prenderci cura di persone di cose e questo aspetto qua aiuta spesso a creare una coesione persino io che sono un'eremita che sta la chiuda nella mia ferra che veramente rapporto sociale zero sono tendenzialmente socievole per la media dei miei colleghi per cui questa tendenza a creare rapporti anche a desiderare probabilmente un ambiente più umano è d'aiuto per noi già quando si crea d'aiuto per me è stato d'aiuto tantissimo ma vedo che anche per tanti colleghi diventa una risorsa anche perché uno comincia a mettere insieme le idee a mettere insieme i pensieri a mettere insieme tante cose e da questo scambio che si può creare vengono fuori idee vengono fuori intuizioni vengono fuori si crea una creatività di pensiero che contribuisce a portare avanti i progetti nuovi a produrre progetti nuovi e a portare avanti quello che si sta portando avanti quindi la cosa che desidererei al di là di tutto è un ambiente il più umano possibile e penso che su questo potremmo avere molto molto da dire sulla ricerca in sé è una cosa che dipende dal sesso uno può essere conosco ma anche come approccio per esempio nel mio campo c'è una grossa scissione tra chi si occupa di teoria di fisica teorica che è molto più vicino alla matematica e chi invece è più sperimentale io sono praticamente un ingegnere mancato non gli era mancata in questo senso siamo abbastanza distribuiti siamo uomini che donne c'è proprio bisogno per tutti di creare dei legami di creare un ambiente in cui sia bello stare per tutti e ci guadagneremo sicuramente tutti le donne in media si laureano prima e con voti più alti rispetto ai colleghi uomini sinonimo di impegno dedizione e costanza per quello che fanno che sono poi caratteristiche fondamentali nel mondo del lavoro secondo me quindi in ogni caso avere una quota rosa in qualsiasi ambito è fondamentale porta diversità all'interno del gruppo del lavoro e quindi sicuramente è un plus poi per qualsiasi tipo di lavoro si debba fare in generale nell'ambito STEM io ho sempre apprezzato molto gli incontri che si fanno sia al liceo che all'università con ex studentesse che portano la propria esperienza e mostrano cosa stanno facendo in questo momento lavorativamente parlando quindi descrivono magari le carriere che sono riuscite a intraprendere negli ambiti STEM a studentesse o future studentesse dell'università e credo che questo debba essere portato avanti inoltre so che il Politecnico di Tolino per esempio offriva il primo anno di iscrizione gratuito a tutte le studentesse quindi a tutte le ragazze che volevano immatricolarsi per la prima volta a un corso di ingegneria e in generale credo sia importante portare avanti a livello aziendale determinate iniziative che incentrate sulla figura delle donne ovviamente in aziende dove la quota rosa è piccola inoltre anche lo Stato secondo me ovviamente potrebbe aiutare molto dando degli incentivi a determinate aziende dove le donne sono in minoranza per appunto assumere donne su ruoli tecnico-scientifici questo viene fatto già da qualche anno in Germania e ovviamente la differenza di quota rosa in Germania si nota molto diciamo che le donne possono offrire la stessa cosa che possono offrire gli uomini quindi quello che voglio io è un'uguaglianza non credo che una donna in quanto donna possa aggiungere qualcosa in più alla scienza semplicemente in quanto persona può aggiungere ha la stessa probabilità di aggiungere qualcosa in più alla scienza al campo di ricerca così come gli uomini il fatto che possa rimanere incinta il fatto che abbia questo cromosoma X in più non va semplicemente a sminuire il lavoro della donna nel nostro piccolo possiamo fare tanto a partire dall'educazione delle bambine penso che possa aiutare tantissimo le donne a scegliere lo STEM le STEM perché se si educa la bambina ha la possibilità di poter scegliere le scienze le scienze possono essere scelte anche dalle bambine non vedo perché non si possa fare purtroppo ho visto che molti tendono a precludere le scienze alle femmine perché è una cosa un po' più da uomini è una cosa un po' dove si richiede un certo tipo di pensiero che è legato agli uomini non è niente di più falso perché le scienze possono essere fatte da tutti anche dalle donne ed educare una bambina alle scienze far vedere che le scienze sono divertenti non sono noiose non è meglio la cucina bisogna anche un po' coltivare le attitudini delle bambine e solo così facendo potremmo avere la stessa uguaglianza che abbiamo gli stessi numeri che hanno ovviamente ora i maschi nelle scienze ovviamente a livello più grande io vorrei semplicemente anche che i miei colleghi mi ignorassero quando io porto magari un peso di due chili o che non mi debbero spiegare in maniera stupida delle cose perché posso capirle tanto quanto loro però niente mi piacerebbe non essere non aver diverso un diverso stipendio solo perché sono donna vorrei semplicemente avere le stesse possibilità di un uomo tutto qui allora secondo me le donne nella scienza la figura della donna nella scienza è fondamentale è fondamentale per diversi motivi intanto partendo da un un concetto molto generale in questo momento c'è bisogno di più persone nella ricerca nei settori emergenti che possono essere il calcolo scientifico all'analisi di dati ma anche a vari settori come fisica ingegneria servono persone qualificate e servono persone in generale non uomini ma persone donne e uomini quindi questo è un primo fatto generale che appunto prescinde diciamo un po' il nello specifico del concetto di donna e poi invece in particolare perché le donne perché c'è intanto il concetto dei benefici che vengono dati dalla diversità di genere cioè la donna le donne in generale hanno capacità hanno attitudini diverse rispetto a quelle degli uomini per esempio un ambiente di lavoro in cui donne e uomini sono ugualmente rappresentati funzionerebbe sicuramente meglio di un ambiente solo maschile noi donne abbiamo dinamiche di interazioni diverse abbiamo una maggiore attenzione a percorsi laterali lavoriamo poi con lo stesso metodo scientifico che hanno insegnato ad entrambi nello stesso modo ma riusciamo ad approcciarci a problemi uguali in modi diversi prendendo strade diverse quindi è questo che offrirebbe come vantaggio enorme con tra l'altro vantaggi il gruppo in generale quindi questo è un concetto veramente importante che bisognerebbe cercare di capire cioè si dovrebbe in generale cercare di capire poi sicuramente avere più donne nella scienza è importante per la società in generale appunto nel concetto di società generale poi comunque permetterebbe anche alle donne di avere più possibilità di scelta a livello lavorativo poter accedere a ambiti diversi poter avere la possibilità di dare il loro contributo in tutti i settori cioè dalla medicina ancora tra l'altro fortemente maschile all'ingegneria a tutti i settori non essere relegate a specifiche funzioni e poi avere anche l'ambizione di poter farcela a raggiungere posizioni importanti anche di impatto sulla società cioè pensare che questa cosa sia possibile e non sempre dare per scontato che noi tanto lì non ci possiamo arrivare e come ho detto anche prima che ho detto appunto della medicina che è un settore super maschilista ancora questo è proprio il caso un caso che poi cade insomma si rende più visibile rispetto agli altri nel senso che le donne sono determinanti sono fondamentali nello studio di certi fenomeni che dipendono dal genere è inevitabile per anni per anni per anni gli uomini si sono messi a studiare il corpo della donna cioè il corpo della donna ma voi ditemi chi meglio di noi donne può conoscere il corpo della donna c'è un'inclinazione diversa anche in queste cose quindi diciamo io sono profondamente convinta che queste mutazioni avverranno perché succederà richiedere un po' di tempo perché appunto nonostante già tuttora molti pensano che ci sia stata un'emancipazione femminile fortissima il che è vero tuttavia ci sono ancora ambiti soprattutto nell'ambito lavorativo e nell'ambito STEM in particolare in cui queste disuguaglianze si sentono ancora abbastanza nette questa è una domanda molto difficile non so rispondere molto bene sono sincera non so dare una risposta ecco allora il più delle volte sembra che noi donne siamo più importate ad un'organizzazione ad avere un'organizzazione migliore rispetto agli uomini una visione di insieme maggiore e questa cosa me l'hanno detta diversi colleghi maschi che lavorano in un'azienda e vedono appunto all'interno di uno stesso ruolo un maschio una femmina e vedono che la femmina ha queste diciamo caratteristiche in più rispetto all'uomo in generale però non te lo so dire se effettivamente così anche io non riesco a dire se effettivamente così oppure no perché ho conosciuto anche tanti uomini che hanno queste caratteristiche credo che in generale scoraggiare le donne a studiare o lavorare in un certo ambito porta a togliere menti e persone da quell'ambito e ogni mente persa è un intero mondo che non viene esplorato quindi andrebbe incoraggiata la partecipazione agli studi scientifici ma in generale sia di uomini che di donne una cosa che a me piacerebbe appunto è non non vedere per forza magari ecco un incontro un evento una manifestazione fatta apposta per incoraggiare le donne agli studi scientifici cioè sarebbe bello un evento per incoraggiare agli studi scientifici tutti quanti in cui si presentano sia uomini che donne far apparire questa cosa come normale far apparire come normale il fatto che una donna lavori in un certo ambito aspiri a un certo lavoro però ecco questa è un'idea che io ho perché non mi piace molto quando si fa una cosa apposta per le donne perché mi sembra che rimarchi la differenza che c'è e so che l'obiettivo è appunto questo perché se si fanno delle cose apposta per le donne può dire che c'è un problema ed è giusto sottolineare quel problema però ecco come non voglio essere svantaggiata in quanto donna non voglio neanche che sia un vantaggio vorrei che fosse normale poter accedere a un lavoro poter accedere a certi studi e quindi ecco sarebbe bello se ci impegnassimo a farlo apparire come una cosa normale che una donna può fare le stesse cose che può fare un uomo può lavorare nei stessi ambiti in cui lavora un uomo ripeto senza magari sottolineare guardatele se è una donna sarebbe bello vedere un uomo una donna parlare di un certo argomento pubblicizzare una certa università una certa facoltà e cioè vederli insieme come fosse una cosa normale questo per quello che però è un po' il mio punto di vista è un po' la mia ci mi rendo conto che è molto personale come cosa come visione vedo comunque che anche molte aziende organizzano magari dei corsi apposta per ragazze ad esempio di programmazione apposta per ragazze appunto perché in quell'ambito mancano tantissime ragazze quindi sono corsi base in cui si comincia proprio da zero riservati a ragazze e che mirano a introdurti in ecco in quel certo ambito lavorativo quindi ecco magari anche anche questo genere di cose sicuramente aiuta però secondo me aiuterebbe di più riuscire a a non dover fare questa differenziazione mi rendo conto che forse i tempi non sono ancora maturi sono i tempi sono tempi in cui ancora serve sottolineare che c'è questa disparità quindi aspettiamo spero di essermi spiegata in base a tutto quello che vi ho detto quindi io faccio fatica a dare una risposta nella mia quotidianità non subisco grosse disuguaglianze o sottorappresentazioni in quanto donna a mio parere è proprio il lavoro di scienza in generale a prescindere dal sesso a subire disuguaglianze bisognerebbe dare una dignità a quello il genere non importa assolutamente dovremmo smestere di essere considerati gli ultimi da pagare nella catena di bilancio delle pubbliche amministrazioni quelli da prendere con sufficienza o comunque gli ultimi da consultare oppure la simpatica macchietta che assomiglia a doc di ritorno al futuro solo perché il nostro lavoro salvaguardia l'ambiente e non fa fare grosse cifre in termini di soldi allora probabilmente mettendo a posto questo meccanismo si riuscirebbero a ottenere contratti più degnitosi e più stabili ma fino ad allora assolutamente secondo me sarà impossibile non è assolutamente un problema di genere almeno nel mio campo io non posso parlare del campo microbiologico o scientifico fisica ingegneria queste cose qui io non posso dirlo ma nel mio campo il problema non è sicuramente il genere il genere è proprio come veniamo considerati noi che siamo i fricchettoni tra gli scienziati diciamo questo è il problema però come stiamo vedendo adesso per una questione di cambiamenti climatici scomparsa di alcune specie estinzioni eccetera eccetera abbiamo un ruolo in questa società e ne avremo sempre di più peccato che non veniamo presi seriamente la cosa principale che secondo me possono dare di più le donne da un punto di vista da ogni punto di vista ma in particolare qui si tratta di un punto di vista scientifico è un diverso approccio ai problemi e diverso non significa necessariamente migliore o peggiore ma semplicemente appunto un diverso punto di vista un pensare in maniera diversa e questo può permettere di trovare soluzioni più efficienti banalmente se se io arrivo subito a una soluzione che tu invece avresti impiegato giorni a trovare entrambi alla fine lavoriamo meglio perché una volta io trovo una soluzione migliore una volta succedate e impariamo entrambi come non lo so anche l'approccio dell'altro e può aiutare a affrontare i problemi in maniera più efficiente in generale come azienda come un gruppo di progetto come team e via dicendo questo un esempio di questo è la programmazione perché purtroppo non posso dare una fonte per questa cosa perché non ricordo dove l'ho sentita e mi sa che me l'ha detta una professoressa a lezione vabbè non è importante ma uomini e donne banalmente programmano in maniera diversa quindi magari organizzano il codice in maniera diversa e questo è un esempio appunto di quello che stavo dicendo prima una soluzione per avere una maggiore integrazione fra uomini e donne io penso che sia sempre un problema di rappresentazione e del fatto che avere così poche donne tra le materie STEM crea difficile che le persone in particolare uomini appunto che sono la maggioranza vadano a come dire a conoscere davvero quello che è il genere femminile in un ambiente scientifico e questo crea semplicemente la tendenza ad andare per stereotipi e il generalizzare il fatto che se c'è una una donna che è competente è un'eccezione e non è semplicemente che è una persona che indipendentemente dai genitali può essere più o meno portata per fare un determinato lavoro e quindi io penso che sia davvero un problema di rappresentazione di mancata conoscenza del mondo donna sembra molto tipo quei libri stupidi degli anni 90 gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere però penso che si sia capito quello che intendo e purtroppo non posso dare delle come dire non mi vengono da dare delle soluzioni pratiche immediate per questo per questo problema ma è una cioè penso semplicemente che sia una cosa che si deve combattere un po' per volta con la la cultura la rappresentazione e il come dire la sensibilizzazione su questo tema di base e so che niente di questo è immediato niente di questo è semplice ma le cose giuste non sono quasi mai immediate e semplici purtroppo questa per me è una domanda complicata e per rispondere sono prima andata a cercare i dati di Alma Laurea che effettivamente confermano che le donne nell'ambito STEM siano molte meno degli uomini e che troviamo molto meno lavoro e quando lo troviamo veniamo pagate molto di meno a parte questa cosa del pay gap che in realtà è tipica di qualsiasi ambito lavorativo secondo me non è tanto la questione di che qualità una donna può portare in un team di ricerca in un ambito scientifico che un uomo difficilmente può forse la cosa che mi viene in mente è che le donne hanno un istinto materno naturale quindi magari sono più pronte rispetto agli uomini a essere un po' una guida nei confronti del nuovo arrivato del tirocinante e aiutare di più sono più predisposte ad essere diciamo un punto di riferimento detto questo a me piacerebbe che ogni singolo venga valutato per le proprie qualità che sono indipendenti dal sesso che tu sia maschio o femmina ognuno in un team di ricerca può portare le sue doti e le sue peculiarità detto ciò secondo me il grosso problema è che le donne devono poter combattere ad armi pari con gli uomini devono essere messe nella condizione di poter gareggiare e combattere in base alla propria intelligenza in base alla loro bravura in base a quello che sono capaci di fare poi in una competizione onesta vince il migliore però non è giusto che veniamo escluse e spesso accade in base al nostro sesso quante volte si sente che gli uomini vengono preferiti perché non c'è il rischio di una maternità o perché sono anche più flessibili dal punto di vista degli orari secondo alcuni gli uomini danno molti meno problemi delle donne e questo è un grosso problema io sinceramente non sento mai parlare di idee come gli asili nido aziendali o gli asili aziendali che possono aiutare le donne lavoratrici anche nella cura dei figli che è un tema fondamentale è ovvio che una madre che magari non ha altri aiuti esterni si trova diciamo nella condizione di magari lasciare il proprio lavoro per badare i figli quindi ecco secondo me è questa la questione permettere alle donne di mostrare le proprie qualità e se sono più brave di altre avere degli avanzamenti di carriera come avviene per gli uomini non è detto che una donna solo perché donna è necessariamente più brava però un grosso passo avanti sarebbe essere valutate almeno allo stesso livello degli uomini io sono dell'opinione e spero che il coinvolgimento di un maggior numero di donne all'interno delle scienze e anche per quanto riguarda più nel mio piccolo sempre delle scienze forensi permetta di apportare nei più disparati ambiti più punti di vista diversificati rispetto a quelli che ci sono al giorno d'oggi mi immagino specialmente che per dei campi in cui la tecnologia le scienze e le scienze sociali sono molto interconnesse come è anche il caso delle scienze forensi le donne possono portare un apporto che vada a beneficio di magari delle minoranze che a livello sociale a livello scientifico non vengono spesso prese in considerazioni perché considerate come facenti parte di un argomento di poca importanza se visto da quello che è il piedistallo di qualcuno che questo problema non lo percepisce veramente come proprio ma ne è separato da una certa distanza al contrario trovo che una donna che già di per sé può ed è essere discriminata a livello di genere per non poi parlare di donne che non sono discriminate solo a livello di genere ma anche perché magari omosessuali piuttosto che di un'altra etnia di un'altra religione quindi una discriminazione molto sfaccettata e quindi trovo che una persona che abbia vissuto su di sé quella che può essere una determinazione una discriminazione piuttosto che un'altra abbia molto da dire riguardo ad argomenti che spesso non vengono affrontati o vengono affrontati con un punto di vista che non è strettamente connesso con il problema esistente spero anche che il coinvolgimento di maggiori donne all'interno dello STEM all'interno delle scienze forensi possa permettere di ottenere maggiori donne in un ruolo preponderante in un ruolo di potere creando così dei modelli che le future ragazze che vorranno studiare in questo campo potranno seguire appunto come ho fatto io quindi che non avevo nessun modello e tramite questo modello intraprendere la strada delle scienze forensi creando un circolo in cui sempre più donne incoraggiano altre donne a intraprendere delle carriere scientifiche nonostante i pregiudizi che si spera vengano a diminuire grazie a sempre questa maggiore presenza di donne mi auguro anche più nello specifico delle scienze forensi che un maggior contributo da parte di donne nella ricerca permetta di approfondire argomenti strettamente connessi con quella che è la figura della donna infatti le scienze forensi come detto sono strettamente interconnesse anche con le scienze sociali basti pensare alla criminologia e di conseguenza che queste donne possano permettere di avere un occhio più critico su quelli che sono gli argomenti di violenze domestiche casi di suro molestie che sono comunque tutti argomenti e casistiche che riguardano strettamente il mondo delle scienze forensi inoltre ad esempio non soltanto a livello sociale spero che un maggior numero di donne permetta di aumentare le ricerche tecnologiche proprio scientifiche alla base di casi legati appunto a violenze domestiche casi di stupro femminicidi mi viene ad esempio in mente una ragazza della mia facoltà che aveva intrapreso una tesi una ricerca per quanto riguarda la ricerca di liquido seminale di materiale biologico nei preservativi per permettere di fare più carezza rispetto a quella che è tuttora fatta sui casi di stupro anche se spesso questi ultimi vengono associati a delle situazioni in cui il preservativo non viene usato ma ovviamente non è nemmeno detto che se un rapporto inizia in modo consensiente e protetto che quest'ultimo continui e si concluda nello stesso modo perché questo consenso può essere ritirato quando si vuole all'interno del rapporto ma non è detto che questo ritiro del consenso venga ascoltato dall'altra parte quindi trovo molto una buona iniziativa una bellissima iniziativa quella di cercare di far luce su degli aspetti spesso meno spesso meno considerati e tralasciati al giorno d'oggi e quando invece una donna è stata capace di apportare delle nuove conoscenze in questo ambito sta cercando di apportare delle nuove conoscenze in questo ambito non so di preciso che cosa oggi una donna possa offrire in più alla scienza rispetto a quello che è stato offerto fino ad oggi posso però dare un dato di fatto cioè che durante la mia esperienza universitaria ho notato che la rappresentanza femminile avesse diciamo una maggiore predisposizione o comunque raggiungesse risultati migliori ad esempio negli esami poi vabbè nel mio campo la maggior parte di studenti e quindi poi di farmaciste sono donne rispetto agli uomini questo può essere legato a tanti aspetti può essere legato al fatto che magari una donna in farmacia abbia una predisposizione migliore nei confronti dei rapporti con col pubblico con i clienti che sia magari più paziente più gentile anche se poi in realtà queste sono tutte caratteristiche che dipendono da persona a persona le donne comunque sono caparghe sono se si mettono in testa una cosa vogliono raggiungerla ma nonostante tutte queste caratteristiche positive della della donna penso che sia la situazione lavorativa al giorno d'oggi soprattutto in alcuni campi come ad esempio il campo della ricerca che non permetta alle donne di offrire tutto quello che possono offrire questo perché perché ci sono ancora delle discriminazioni delle disparità tra uomo e donna mi viene da fare due esempi che per me sono i più eclatanti che si riferiscono alla maternità e alla presenza di contratti che possano garantire a una donna di fare delle scelte di vita personali senza dover rinunciare al lavoro nel momento in cui la maternità non viene garantita o comunque non viene tutelata al 100% e nel momento in cui non si dà a una donna la possibilità di avere dei contratti stabili e abbastanza lunghi da poter prendere determinate decisioni questo implica che se una persona donna in questione decide e ha voglia di farsi una famiglia di avere dei figli in modo particolare non possa diciamo gestire entrambe le cose ma si trovi davanti alla situazione nella quale è costretta a rinunciare al lavoro per seguire invece una scelta di vita e quindi una scelta invece che riguarda il suo ambito privato e non lavorativo quindi penso che la cosa più importante non sia tanto quello che le donne possono offrire ma sia quello di andare a migliorare gli aspetti lavorativi soprattutto gli aspetti contrattuali in modo tale che le donne si possano sentire più tutelate indipendentemente dalle scelte di vita personali che poi potranno fare nel corso del tempo a questa domanda in realtà non so bene cosa rispondere perché non so se possa essere un in più o possa semplicemente essere un modo di guardare le cose in maniera diversa oppure pensare a problematiche che normalmente non vengono pensate in questo momento riguardo al mio ambito non ho grandi idee però magari per esempio la medicina il punto di vista di una donna potrebbe essere diverso perché potrebbe tranquillamente pensare a problematiche che normalmente non vengono prese in considerazione come può essere ad esempio una gran parte di malattie che sugli uomini e sugli donne si comportano in maniera diversa ma tantissime cose vengono sperimentate solo ed esclusivamente sugli uomini quindi diciamo che magari le donne possono in qualche modo riuscire a dare un di più verso queste problematiche nelle scienze per quanto riguarda invece una cosa che potrebbe cambiare potrebbe migliorare un po' secondo me è la selezione delle le modalità di selezione delle persone a cui dare le borse di dottorato le borse di ricerca insomma tutto quell'ambito lì quindi la scelta di come assegnare certe certe borse di studio perché in questo momento da quello che so anch'io la commissione che valuta a chi dare le borse di studio vede il tuo nome il tuo cognome e il tuo sesso oltre al lavoro che fai al lavoro che hai fatto e secondo me questo è un po' già discriminatorio in partenza in quanto spesso e volentieri ancora adesso è insito in noi il fatto che un uomo sia più autorevole di una donna quindi secondo me una cosa da migliorare è questa quindi togliere nome e cognome e sesso dalle domande di borse di studio alle domande di cose di ricerca e far arrivare solo alla commissione che valuta il lavoro vero e proprio e questa cosa è una cosa che si dovrebbe migliorare il prima possibile insomma per ora non me ne vengo in mente altre però diciamo che questa secondo me è una delle cose che si dovrebbero migliorare il prima possibile allora su cosa possono offrire le donne banalmente la loro testa che già è tanto cioè è una domanda un po' strana perché non ho mai pensato di dover offrire qualcosa per poter entrare in un determinato campo però penso più o meno che il senso della domanda sia far capire che le donne possono offrire una visione diversa nell'approccio a un determinato progetto nelle modalità con cui portarlo avanti banalmente la prima cosa che mi viene in mente è la questione del ciclo nello spazio perché inizialmente alle donne che volevano intraprendere una carriera d'astronauta gli veniva detto sostanzialmente hai il ciclo metti l'anima in pace non sta da fare poi nel momento in cui hanno cominciato ad aprire le porte diciamo così anche alle donne ci sono stati tutta una serie di studi su come cioè come portare avanti normalmente il ciclo nello spazio ci sono tutta una serie di metodi per o per interromperlo oppure per portarlo avanti comunque e su questo c'è tutta una nuova letteratura di studi scientifici su questo ambito e sono studi che sicuramente verranno applicati anche in altri ambiti e sono studi che non ci sarebbero stati se le donne non avessero mai avuto questa opportunità quindi nel momento in cui tu fai entrare brutto parentale però nel momento in cui tu dai le possibilità a una minoranza a cui prima non avevi dato quelle possibilità ti si apre davanti tutto un nuovo modo di vedere le cose che magari prima non avevi poi su questo si può fare tanto a partire banalmente dalla rappresentazione perché non so se sono io però io ricordo la bambina di non aver visto chissà quale rappresentazione delle donne nella scienza proprio nella fiction in generale cioè per fare un esempio sono rimasta molto colpita in maniera positiva dalla scelta dell'avere voluto cambiare il personaggio di Shuri della Marvel nella trasposizione dal fumetto al cinema perché nella Shuri del cinema dei film è stato reso un personaggio intelligente lì si nota che è la più intelligente di tutti a livello se non superiore di Tony Stark e la sua cosa ci diciamo la sua caratteristica principale l'essere una scienziata cosa che non era prima nei fumetti se non sbaglio avevano anche aperto una testata a parte a fumetti avevo iniziato qualche tumore mi sembrava anche molto bella poi però l'hanno interrotta perché perché no c'è una cosa bella che la dobbiamo togliere quindi secondo me è una cosa che serve perché ricordo quando andai a vedere al cinema Black Panther che c'erano molte ragazzine che gli piaceva vedere il personaggio di Shuri è un bel personaggio e se tu fai vedere in giovane età diciamo così che ci sono dei personaggi a cui ispirarti anche di finzione secondo me fai la differenza poi bisogna anche lavorare molto sull'istruzione sull'inclusione anche questa è una cosa su cui io tengo molto cioè non molti mi seguono in questo ragionamento perché secondo me bisogna lavorare sulle scuole sulle biblioteche perché la scienza sì è bellissima tutto quello che volete ma imparare hai dei costi hai bisogno di materiale che non tutti si possono permettere io stessa prima di accettare l'università non avevo neanche un computer cioè fino al secondo anno di università non avevo un computer ho dovuto aspettare il secondo anno di avere la borsa di studio a quel punto mi sono potuta comprare un computer personale un computer mio con cui lavorare quindi hai bisogno un po' di gente qualificata che insegni in modo da dare a tutti le stesse possibilità indipendentemente da se vivi al nord vivi al sud se maschio femmina ricco povero eccetera ecco secondo me un aspetto fondamentale senza cui non si va da nessuna parte e agire sulla formazione senza pregiudizi e senza stereotipi la sotto rappresentazione delle donne in ambito STEM purtroppo è una conseguenza di quello che è la percezione delle donne nella società diciamo che per il pubblico la donna risulta meno credibile di un uomo in campo scientifico e secondo me questo è il risultato di una serie di preconcetti che comunque ci vengono insegnati da quando siamo piccoli e che vedono le donne come sentimentali e creative mentre gli uomini come più logici e razionali quindi bisognerebbe normalizzare la figura della donna in campo scientifico soprattutto darle più visibilità ed anche una certa valorizzazione sarebbe bello avere testi scolastici che valorizzino quindi le scoperte scientifiche raggiunte dalle donne e soprattutto raggiungere un tipo di educazione che preveda che tutti possiamo appartenere ad un determinato ambiente e che il genere di un individuo non determina il valore delle sue capacità quindi trovo molto utile dare l'opportunità ai bambini di scontrarsi direttamente con la scienza ma non solo a livello teorico soprattutto a livello pratico questo principalmente perché io magari da donna posso dirti che una carriera in ambito scientifico è possibile però è un'affermazione che comunque lascia il tempo che trova perché tu puoi decidere poi se credermi o meno fare qualcosa nel pratico invece abbatte questo tipo di barriera perché è la dimostrazione palpabile del fatto che tu hai la capacità di fare una determinata cosa e inoltre ti dà l'opportunità di appassionarti a quella cosa poi sto per dire una cosa che magari può sembrare un po' banale però io penso che ci voglia anche più rappresentazione nella lettura e nel cinema perché bisogna dare l'opportunità alle ragazze di rivedersi in determinati personaggi ma soprattutto bisogna inserire nell'immaginario collettivo l'esistenza e la validità della donna in questo campo in ultimo questa è una domanda che gli ho fatto per noi persone non di scienza sarebbe interessante raccontare un aneddoto una curiosità una piccola scoperta quello che pensi sia rilevante riguardo al tuo campo specifico che trovi magari significativo importante curioso insomma alla portata ovviamente però di tutti noi che siamo al di fuori del vostro ambito e che ci racconta magari qualcosa in più che può affascinarci o interessarci mi piacerebbe provare a raccontare la misura che è stata fatta ormai cinque anni fa e quando ci penso mi sembra una cosa assurda delle onde gravitazionali quindi non tanto la teoria che ci sta dietro che la lasciamo agli addetti lavori perché non è spiegabile in poco tempo ma proprio la misura in sé che è una cosa stratosferica anche solo lei da sola ora quello che si è cercato di misurare che si è misurato a partire dal 2015 è una variazione dello spazio-tempo dovuta al passaggio di un'onda gravitazionale che lo stringe e lo dilata nelle varie direzioni a seconda di come passa l'onda questa variazione dovuta al passaggio è pari a 10 alla meno 21 come ordine di grandezza ora voler misurare una variazione di 10 alla meno 21 è come dire di voler misurare su una scala pari al raggio dell'orbita terrestre una variazione pari a un atomo una cosa che a dirla sembra impossibile eppure ce l'hanno fatta perché non è merito mio tutto questo è stato possibile grazie alla costruzione di degli interferometri giganteschi l'Aigo in America due siti e Virgo a Cascina vicino Pisa i cui bracci sono per quelli americani di 4 km e per quello italiano di 3 la lunghezza dei bracci ha permesso che la misura effettiva poi da fare non sia di 10 alla meno 21 ma di 10 alla meno 18 se non sbaglio che è comunque piccolissima perché siamo a 8 ordini di grandezza sotto la misura di un atomo che è 10 alla meno 10 ecco fare una misura del genere richiede di avere strumenti materiali accorgimenti per evitare rumori derivanti dall'esterno come rumori si intende anche solo vibrazioni del terreno dovute analmente al passaggio di un tir in una strada vicino al sito dove è l'interferometro e le soluzioni che sono state trovate per ovviare a tutti questi problemi tecnici che il fare questo tipo di misura avranno poi un utilizzo nei settori più disparati e nei modi più imprevedibili ci daranno nuovi strumenti che avranno un'utilità che oggi non possiamo nemmeno immaginare o prevedere e il continuo miglioramento della strumentazione per riuscire ad arrivare sempre più in là avrà veramente dei risvolti inaspettati magari anche in campo medico per dire ed è proprio questo il bello della scienza della ricerca che per trovare risposte a delle domande ti metti in delle condizioni che altrimenti non si creerebbero e poi c'è una serie di effetti collaterali completamente imprevedibili ma nel senso buono perché chissà cosa riusciremo a fare tra una decina una quindicina una ventina d'anni grazie a queste cose che al momento sembrano non servire a nessuno a non essere di pubblica utilità se non a far divertire i ricercatori io spero che queste cose siano facciano parte di un modo di pensare sempre più diffuso e sono sicura che sarà così per la maggior parte delle persone che magari ascolteranno questo messaggio ma purtroppo vedo ancora tante persone che non capiscono quale sia il senso di fare queste cose assurde che non si sa effettivamente a chi servono ecco per rispondere a questa ultima domanda vorrei menzionare Trace Hopper ammiraglio della marina militare americana vissuta nella prima metà del novecento i più la conosceranno in quanto inventrice del linguaggio di programmazione COBOL il primo a essere basato sulla lingua inglese ma non molti di voi probabilmente sapranno che è a lei che dobbiamo il termine debugging è noto come la ricerca e risoluzione dei problemi di un sistema o programmazione il fatto divertente è che lei ha coniato questo termine dopo aver visto dei colleghi rimuovere una bug o insetto dai circuiti del computer Mark II quando voglio far capire far comprendere ai miei amici e parenti non di scienza l'importanza della chimica uno o la metto sul tragico e quindi dico ma senza la chimica saremmo tutti morti perché regola ogni nostro processo vitale e così come ogni processo naturale oppure diciamo la prendo un po' più sul leggero inizio a spiegare un fenomeno chimico-fisico secondo me interessantissimo e molto affascinante che è l'effetto tunnel l'effetto tunnel diciamo un po' per invogliare gli animi l'effetto tunnel infatti è un fenomeno quantistico per il quale una particella riesce a superare una barriera energetica di potenziale nonostante non abbia energia sufficiente per farlo questo accade perché la particella ha una velocità talmente elevata da far sì che l'incertezza associata alla sua posizione è così grande che può trovarsi anche al di là della barriera mi spiego meglio questa particella è come se si trovasse da un lato di una montagna senza più energie ma dopo poco sparisce e la ritroviamo dall'altro lato può sembrare fantachimica ne sono cosciente ma pensiamo a tutte le implicazioni filosofiche che contiene questo fenomeno spesso ci sentiamo senza forze senza alcun tipo di energia spesso ci chiediamo se saremo in grado di superare una determinata situazione difficile la risposta ce la dà la chimica certo che possiamo superare tutto l'importante è volerlo proprio come la particella che intrinsecamente ha una quantità di moto elevata che è tanto elevata da permetterle di ritrovarsi dall'altra parte della montagna senza aver compiuto un briciolo di fatica non importa se tutte le condizioni energetico-termodinamiche sfavoriscono questa situazione lei la prende da un altro punto di vista quello cinetico e ci riesce comunque con questa piccola esaltazione concludo il mio sprologo con un monito se avete le particelle che compiano effetto tunnel superate i progiudizi credete in voi stesse vedete le cose da un altro punto di vista che sono sicura che anche voi vi ritroverete dall'altra parte della montagna senza neanche essere venerese conto una curiosità scientifica anzi una curiosità storica è stata che Emma Strada è stata la prima donna a lavorarsi in ingegneria in Italia al Politecnico di Torino e con il massimo dei voti e ci misero un'ora per la commissione ci misero un'ora per decidere se chiamarla se nominarla ingegnere o ingegneressa perché ancora non esiste neanche un termine preciso se il voltare al maschile o al femmile e lei insieme ad altre donne fondò la AIDA che è l'associazione italiana donna ingegnere e architetto uno degli avvenimenti che mi è rimasto più impresso del mio percorso universitario c'entra in verità ben poco con il mio campo di studi e riguarda una lezione di analisi 2 stavamo facendo le serie di Fourier e il professore ci introduce al problema di Basilea il problema di Basilea essenzialmente chiede di trovare la somma degli infiniti inversi dei quadrati dei numeri naturali cioè 1 più 1 quarto più 1 nonno più 1 sedicesimo più 1 venticinquesimo e così via il risultato di questa somma di infiniti numeri è pi greco quadro sesti che diciamo per la dimostrazione non è un risultato che sorprende particolarmente però da questo risultato il professore ci ha fatto riflettere su una cosa ovvero che la matematica molto spesso ritorna a due numeri due numeri molto particolari che sono appunto pi greco ed e il numero di Aulero non importa che sono essenzialmente cioè due numeri brutti cioè se li guardi sono veramente veramente brutti non sono dei numeri naturali 1 2 ma anche 0 no sono proprio dei numeri brutti cioè fanno un loro significato per esempio pi greco è quante volte il diametro di un cerchio sta nella sua circonferenza ha un significato però un numero brutto e se te non conosci la dimostrazione ti viene da dire ma scusa eh ma la somma di infiniti numeri ma che diavolo c'entra con pi greco ma cosa c'entra la somma di infiniti numeri con quante volte il diametro di un cerchio sta nella circonferenza ma di che cavolo stiamo parlando ma da dove è uscito fuori ed è appunto diciamo una domanda per così dire legittima cioè se te non conosci la dimostrazione le varie dimostrazioni per risolvere questo problema ti viene da dire ma ma che c'entra però effettivamente questo numero brutto orribile anche estremamente specifico ritorna sempre nella matematica ed è una cosa che succede sempre cioè nella vastità di argomenti e di applicazione della matematica ci sono comunque alcuni numeri alcuni elementi che ritornano che uniscono tutti questi argomenti con una specie di filo rosso ci sono alcuni numeri alcuni elementi che nonostante sembrino brutti sembrino scollegati tra loro comunque da qualche parte ritornano sempre a unire tutto e questa cosa della matematica è estremamente poetica e per me è la cosa più vicina all'equilibrio e alla perfezione che io abbia mai incontrato ci sarebbero tantissime scoperte di cui potrei parlare a partire dalla madre di tutte le scoperte in campo nucleare che è la radioattività di Marie Curie e che ha permesso moltissime innovazioni sia in campo medico che in campo ingegneristico ma c'è un aspetto che secondo me rimane sempre molto interessante e che forse è anche abbastanza conosciuto che è il decadimento radioattivo che ha portato alla tecnica di datazione al carbonio 14 CO radiocarbonio che è la tecnica usata ad esempio per misurare la datazione per datare i reperti in campo archeologico il decadimento radioattivo è un fenomeno che interessa quasi tutti gli elementi della tavola periodica quelli che sono instabili e vuol semplicemente dire che dopo un certo tempo e secondo una certa legge un elemento decadrà ovvero diventerà un altro elemento per quanto riguarda il carbonio ad esempio dopo un certo tempo si può trasformare in azoto che è un elemento inferiore nella tavola periodica questo decadimento si può caratterizzare per ognuno degli elementi secondo una costante ovvero il tempo di dimezzamento che è un valore che si associa al tempo che intercorre tra ad esempio il momento in cui abbiamo 100 atomi e quello in cui ne avremo solamente 50 rimanenti per quanto riguarda il carbonio 14 il tempo di dimezzamento è di 5730 anni all'incirca che è un dato molto interessante perché si tratta di un mattoncino di tempo che non è né troppo piccolo né troppo grande per ciò che vogliamo misurare ovvero ad esempio datare i reperti archeologici quindi ci permette di avere delle misure abbastanza accurate ed efficaci e dettagliate come funziona la tecnica cercherò di spiegarla in modo molto semplice ovviamente è più complessa la situazione però per far capire a tutti durante la vita di un essere di un qualsiasi organismo vivente la quantità di carbonio 14 al suo interno sarà costante se una parte ad un certo punto viene espulsa sarà ringerita tramite respirazione tramite cibo ad esempio alla morte dell'organismo invece la quantità di carbonio sarà quella che era presente al momento della morte quindi rimarrà costante e non farà altro che diminuire nel tempo al decadimento ovviamente quindi cosa si può fare se prendiamo un reperto fossile ad esempio quindi deve essere per forza stato vivente ad un certo punto e misuriamo il carbonio 14 la quantità che è presente all'interno possiamo ovviamente vedere quanto ne manca in proporzione rispetto a quanto dovrebbe essercene se fosse un elemento vivente e quindi possiamo vedere da quanto tempo questo elemento questo organismo è morto come dicevo ci sono altre mille spaccettature più complesse alla situazione però trovo che sia sempre un aspetto molto interessante perché ci fa vedere come la scienza non è un qualcosa di astruso e scollegato dalla realtà le scoperte che facciamo hanno un risvolto pratico in qualsiasi campo che può essere appunto l'archeologia la storia la medicina ci sono tantissime applicazioni pratiche di scoperte che all'inizio sembravano fine a loro stesse e secondo me è sempre molto importante ricollegare la scienza alla vita vera e alla pratica allora io non leggo libri di fisica fuori da quelli che devo studiare per lavoro non mi interesso particolarmente le storie della fisica penso che ci siano un sacco di altre cose oltre alla fisica e quella a cui lavoro mi basta quindi su aneddoti storici non la capo per appunto niente dovrei approfondire forse prima o poi mi verrà voglia nel caso ve lo farò sapere per quanto riguarda cose divertenti successe in laboratorio ce ne sono infinite comprensibili non lo so che posso dire non lo so perché poi lavorando con oggetti che vanno nello spazio in teoria uno dovrebbe essere precisissimo attentissimo a tutto ma anche alla polvere cioè noi lavoriamo in un ambiente che è a livelli di polvere di umidità di temperatura estremamente controllati e succedono cose che forse è meglio che io non dica in un video ma che sono molto divertenti però è meglio se non lo dico perché se questo video capita in mano a qualcuno che non deve saperlo non sarebbe divertente mi dispiace però no il laboratorio è assolutamente il posto più più diverso del mondo una cosa divertente è dicevo io lavoro in questo ambiente che è non è sterile però è estremamente controllato dal punto di vista di impurità c'è un sistema di ventilazione speciale per cui c'è un livello di polveri controllato c'è un livello di temperatura controllata tutto l'anno umidità controllata tutto l'anno quindi per entrare c'è una stanza filtro prima in cui uno si deve coprire le scarpe o cambiare le scarpe in cui si mette il camice ti metti la cuffia per i capelli ora anche la mascherina ma questa è novità dell'anno mentre stavo mi ricordo che nel mio gruppo c'è un ragazzo che ha cominciato lutturato insieme a me lui si dice sperimentale ma si occupa principalmente di analisi dati non sa manco com'è fatto il rivelatore praticamente la prima volta che è entrato in camera pulita perché doveva darmi una mano a spostare delle cose a un certo punto deve uscire a prendere un oggetto di quelli che stavamo spostando e vabbè si alza da dove era seduto va verso la stanza filtro c'è una porta che separa i due ambienti e mentre va verso la stanza comincia a togliere il tiroso della scarpe quando siamo usciti ho preso il suo tesserino della camera pulita e mi glielo ho più riuso allora approfitto di questa domanda per spiegare un po' che cosa vuol dire ingegneria dell'autoveicolo che cos'è visto che è un po' o una nicchia allora l'ingegneria dell'autoveicolo fa parte della classe di laurea di ingegneria meccanica quindi i primi tre anni sono praticamente comuni a ingegneria meccanica e poi man mano che si si approfondisce determinati aspetti questi vengono ovviamente declinati sulla tecnologia dell'automobile è ovviamente una un'industria molto presente in Italia forse una delle più grandi industrie che l'Italia ha e questo porta con sé ovviamente tante donne che lavorano in automotive per fare una macchina ci vogliono tante 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 ore di guida sui prototipi e per fare questo si ha bisogno di collaudatori test engineer applicatori quindi veramente tante tante persone che lavorano nello sviluppo di un'automobile salgono in macchina e le rendono più sicure ora per fare diciamo i test sia su strada che su pista bisogna fare determinati corsi di sicurezza corsi di guida specifici che sono a livelli quindi si parte da una base e poi man mano che uno diventa più schillato diciamo fa dei test dei corsi avanzati se si lavora in ambito automotive e si ha la necessità per lavoro di fare dei ritornati di pd test come me e i miei colleghi per esempio questi corsi di guida sono obbligatori quindi da neoassunta ho dovuto fare diversi corsi di sicurezza alla guida che sono delle giornate che vengono organizzate appunto da da delle scuole di guida molto spesso tenute cioè create da ex piloti professionisti in cui appunto tu impari a gestire la macchina in determinate situazioni di pericolo a questi corsi appunto si partecipa di solito assieme ai tuoi colleghi e si fanno delle vere proprie prove come una verifica quindi dei test non so per esempio devi fare un sorpasso stando dentro al percorso con i birilli a 70 80 90 all'ora devi andare devi fare la curva in un determinato modo cercando di mantenere la macchina stabile sul bagnato con metà ruote sul bagnato metà ruote sull'asciutto ricreando magari la come si dice la situazione dove hai le ruote posteriori completamente senza attrito quindi molto molto difficile da gestire al volante eccetera eccetera quindi poi vengono fatte queste prove tu hai un istruttore che ti valuta e poi a fine giornata ricevi un voto e così per renderle un po' più divertenti anche tra colleghi a volte vengono fatte le classifiche e in tutti i corsi che abbiamo fatto io tra l'altro non ero l'unica ragazza perché appunto non sono l'unica donna per fortuna molte colleghe donne in ufficio viene fatta una classifica è sempre fatta una classifica e sorprendentemente non siamo mai state ultime quindi abbiamo colleghi che guidano molto peggio di noi ecco sarà che volevano strafare però questo porta anche a una maggiore poi a un maggior pericolo alla guida rispetto a una donna che magari è più più prudente ecco oddio le cose che trovo divertenti io di solito non lo sono per gli altri perché lavorando nella ricerca animale sono legate soprattutto a delle manipolazioni di roditori ed è non è questo mai divertente per gli altri per me è divertentissimo perché una cosa che mi ha insegnato tantissimo la ricerca degli animali è l'amore per i rattini potrei raccontare del momento in cui un ratto mi ha fatto le fusa oppure del momento in cui un ratto mi sia salito sulla testa però non lo farò un aneddoto significativo che mi ha apportato ad amare soprattutto ancora di più il lavoro che faccio è stato il fatto che siamo riusciti a portare un farmaco in fase 1 quindi nella fase di sperimentazione clinica è un farmaco che ho seguito per tutto il mio dottorato quindi per tre anni di cui ho fatto diversi test di efficacia e fortunatamente sembra stia andando bene anche nei clinical trials se vedrò il farmaco che ho curato quasi come un bambino andare in commercio sarò una persona davvero felice in ultimo mi piacerebbe parlarvi di un fatto storico cioè più che un fatto storico una scoperta in realtà estremamente significativo nell'ambito dell'ingegneria genetica che è stata fatta in realtà poco tempo fa e che sta rivoluzionando il mondo ma che lo rivoluzionerà letteralmente e parlo di CRISPR-Cas9 praticamente ha un complesso molecolare possiamo definirle tipo delle forbici molecolari che hanno il compito di correggere il DNA praticamente possono diciamo questo complesso può tagliare il DNA in un punto specifico e sostituire quella parte con una parte modificata e in questo modo diciamo si possono andare a correggere delle mutazioni che causano delle malattie quindi si potrebbe finalmente riuscire a debellare tutte quelle malattie genetiche sia rare che non che colpiscono tantissime persone tantissimi bambini poi ovviamente come tutti i problemi come diciamo tutte le scoperte in questo in questo settore che comunque hanno a che fare con la modifica del DNA e tutte queste cose qui hanno poi un riscontro inevitabile dal punto di vista etico in termini di come limitare queste modifiche cioè fino a dove sono applicabili solamente per la cura delle malattie o anche per altro questo ovviamente poi sta tutto cioè sono questioni che vanno ben oltre le nostre competenze però quello che sicuramente rappresenta CRISPR è l'avvio diciamo della modifica del genoma e soprattutto a tutte quelle discipline dato che si focalizzano sullo studio delle malattie rare delle malattie genetiche perché diciamo hanno aperto finalmente le porte alla possibile cura di malattie genetiche che è una cosa formidabile quindi direi che questa scoperta è fenomenale e di impatto per per la nostra società cioè per il mondo scoperta di cui ti voglio parlare mi sembra piuttosto pertinente agli argomenti che abbiamo trattato perché in qualche modo riguarda le donne potrebbe riguardare le donne ora ti spiego due degli oggetti matematici più antichi si chiamano osso di le bombo e osso di isciango i nomi derivano dalle zone in cui sono stati ritrovati questi oggetti e cosa sono? sono appunto delle delle ossa di babbuino che sono state della gamba di un babbuino che sono state intagliate con delle tacchette e secondo certe regole è che appunto sono ancora studiate ci sono ancora degli studi in corso su questi oggetti però diciamo si è sicuri che questi oggetti sono stati utilizzati per fare dei calcoli cioè queste tacchette nascondono dietro dei calcoli che i primitivi volevano fare perché queste ossa sono datate 35.000 anni avanti Cristo più o meno e la particolarità qual è ad esempio l'osso di sciango ha un quarzo incastonato su una delle estremità questo fa pensare che sia un oggetto sicuramente importante ma che magari ecco poteva essere stato abbellito con un quarzo perché poteva essere stato usato da una donna una delle tante ipotesi riguardo a queste due a questi due ossicini è che appunto venissero usati dalle donne per tener conto del ciclo mestruale oppure delle fasi lunari quindi ecco secondo me era carino portarti a conoscenza del fatto che i due oggetti più antichi i due oggetti matematici più antichi della storia possono essere stati usati per questo quindi all'inizio ecco sì c'è stata l'esigenza di contare per tener conto del proprio ciclo mestruale è una delle ipotesi non c'è niente di certo perché comunque si parla di di preistoria però è una delle ipotesi mi sembrava una storia carina da raccontarti ultima domanda in generale una cosa molto significativa per me è essere diventata molto spesso collega di lavoro dei miei professori universitari lo studente li vedeva come una sorta di divinità e ora essere sempre più spesso in gruppo di lavoro con loro mi rende veramente molto orgogliosa di me stessa in realtà di cose belle da dire del mio lavoro ce ne sarebbero tante di aneddoti cose simpatiche soprattutto perché tutte le volte che esci per andare a fare dei rilievi della vegetazione o insomma ti infili dentro un bosco incontri le creature e le persone più disparate perché anche molto spesso quando sei costretto a entrare in proprietà private tutte le volte ti devi presentare al proprietario del dato terreno e spiegargli cosa ci fai lì perché chi ti manda eccetera eccetera e ci è capitato di incontrare delle persone stupende ascoltare dei racconti meravigliosi io sono un grande ascoltatore di storie quindi mi stupisce sempre quello che inaspettatamente puoi trovare vi saluto con un aneddoto simpatico ma che rappresenta al meglio una mia giornata tipo in giro per montagna per rilievi ero seduta in riva un fiume a prendere appunti sulla vegetazione che avevamo nei dintorni appunto per un lavoro per il parco nazionale delle foreste casentinesi guardo il mio collega che nel frattempo stava facendo le foto e gli faccio Lele mi è saltato un rospino nelle mutande ciao ragazze un bocca al lupo allora c'è questo questo episodio che a me ha fatto molto ridere perché ho palesemente un senso dell'umorismo molto macabro ma e che mi piace molto ricordare perché io fino al secondo anno di università pensavo che le unità di misura fossero inutili perché tanto capito capisci più o meno di quello che stai parlando di cui stai parlando e invece questo mi ha dimostrato che non è così banale in pratica c'era un progetto di esplorazione per cui doveva essere inviata una sonda su Marte ovvio io non su Marte un'orbita intorno a Marte quindi praticamente si erano fatti una serie di calcoli per far arrivare questa sonda esattamente in quell'orbita con una certa angolazione di modo che questa poi non sarebbe atterrata sul pianeta ma avrebbe continuato a orbitare intorno al pianeta prendendo i dati che erano necessari e a questo progetto della sonda partecipavano in collaborazione l'ESAM che è l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA se non che questa sonda viene inviata arriva nel punto in cui dovrebbe inserirsi nell'orbita non si sa inizialmente perché la sonda prende la direzione sbagliata e si schianta su Marte il problema era stato che nell'Agenzia Europea si lavorava con il sistema internazionale quindi banalmente con i metri per esempio mentre alla NASA lavoravano con i piedi e quindi ognuno ha interpretato i dati dell'altro alla luce della loro unità di misura e per questo i dati alla fine sono risultati sbagliati i calcoli alla fine sono risultati sbagliati e il controllo della sonda per essere messa in orbita era sbagliato a sua volta e quindi la sonda semplicemente si è schiantata e quando l'hanno raccontata mi ha fatto ridere tantissimo posso capire che a una persona non lo so fuori un pochino da questo mondo non faccia così ridere soprattutto oppure una persona in questo mondo che lavorava a quel progetto in particolare non facesse ridere per niente ma a me ha fatto ridere troppo davvero troppo quando l'ho sentita la prima volta appena appena ho letto la domanda ho subito pensato alla storia di Rosalind Franklin che è nota nell'ambito biologico ma magari non tutti la conoscono Rosalind era una scienziata britannica che negli anni 60 del 900 all'età di 33 anni lavorava al King's College di Londra dove attraverso tecniche ai raggi X studiava la struttura del DNA arrivò a scoprire che era costituito da due filamenti ma ancora non ne capì completamente la struttura le sue scoperte non furono mai pubblicate su riviste scientifiche e lei spesso si lamentò dell'ambiente sessista in cui lavorava un giorno il suo superiore al King's College presi i suoi studi e li mandò Watson e Crick due scienziati uomini che stavano lavorando all'università di Cambridge proprio alla scoperta della struttura del DNA questi poco tempo dopo scoprirono che il DNA era formato sì da due filamenti avvolti a formare una doppia elica la scoperta fu chiaramente pubblicata su numerose riviste scientifiche di grande prestigio e per questo vinsero il premio Nobel senza gli studi effettuati da Rosalind Watson e Crick non sarebbero arrivati così in fretta alla scoperta della doppia elica ma il lavoro di Rosalind non venne mai riconosciuto se non fino a pochi anni fa morì a 37 anni quindi circa 5 anni dopo le sue scoperte per un tumore alle ovaie dovuto probabilmente alle radiazioni a cui era sottoposta durante i suoi studi è un esempio lampante di quello che era ma che spesso è anche oggi è una storia di circa 50 anni fa che però è tremendamente attuale beh mi verrebbe da riproporre la mia scoperta di quella che è una donna molto importante per le scienze forensi soprattutto in America considerata appunto la madre delle scienze forensi e che purtroppo è sconosciuta ai più immagino voglio sperare molto più conosciuta in America che non qui in Svizzera perché non l'ho detto effettivamente ma io studio e sono Svizzera studio all'università di Lausanna nella facoltà di scienze criminali e appunto ho scoperto recentemente l'esistenza di questa figura femminile importante nell'ambito di cui mi sono innamorata fin da piccola e di cui non sapevo assolutamente l'esistenza Frances Klesner Lee è una donna che ha fatto delle sue debolezze che le erano state imposte in quanto donna del suo ruolo imposto in quanto donna ovvero il fatto di dover restare a casa di essere lei a doversi occupare della casa e della famiglia le ha prese e le ha rese una professione infatti da grandissima appassionata di quelle che sono le case delle bambo l'arredamento di case delle bambole lei essendo anche una grandissima appassionata di scienze forensi e in particolar modo di medicina legale ha deciso di intraprendere formalmente questa carriera nonostante inizialmente le fosse stato in un certo senso preclusa la possibilità di farne parte in quanto donna e ha creato tramite la sua passione per le case delle bambole dei diorami estremamente accurati con tanto di luce porte finestre che si aprono cibo nelle cucine ha creato dei veri e propri diorami dettagliatissimi che rappresentavano diverse scene del crimine di avvenimenti del suo tempo che è neanche troppo lontano comunque gli anni 40 anni 50 queste scene del crimine appunto essendo molto dettagliate comprendevano anche tutto un insieme di tracce e oggetti che si possono ritrovare sulle scene del crimine a dipendenza ovviamente del tipo di avvenimento e anche ad esempio i cadaveri che si trovavano su queste scene del crimine su questi diorami erano e sono estremamente precisi anche per quanto riguarda posizioni caratteristiche post mortem macchie di sangue e dico sono tuttora molto dettagliati perché considerati talmente tanto importanti ed è appunto questo uno dei motivi per il quale mi sorprendo che il suo ruolo a livello mondiale non venga così tanto riconosciuto vengono attualmente ancora utilizzati in America per insegnare i giovani investigatori i giovani tecnici di scienze forensi come me che vengono appunto gli viene insegnato come e cosa cercare su una scena del crimine dove cercare tramite queste piccole scende del crimine costruite ad hoc da una donna che secondo i ruoli sociali dell'epoca non avrebbe nemmeno dovuto creare questi diorami che sono anche considerati delle vere opere d'arte e oltre che alle scienze forensi Frances Glessner Lee ha anche dato un enorme contributo alla medicina legale ed è anche diventata la prima donna ad essere capitano della polizia negli Stati Uniti questi suoi diorami sono chiamati Natural Studies of Unexplained Death e soprattutto appunto permettono di avere una visione generale di quello che secondo me è tuttora la realtà virtuale che viene utilizzata per mostrare ad esempio le scene del crimine durante i processi penali per permettere a delle persone non del campo quindi può essere testimoni giudici corte avvocati viene usata la realtà virtuale per permettere una maggior comprensione di quelli che sono stati gli avvenimenti e a mio parere trovo che oltre ad essere una pioniera nelle scienze forensi nella ricostruzione di scene del crimine nella medicina legale possa anche essere considerata una pioniera in quella che è la visualizzazione semplificata di scene del crimine che oggi viene attribuita alla realtà virtuale quindi una donna pioniera delle scienze della tecnologia in tutto e per tutto per quanto mi riguarda e purtroppo poco conosciuta ma spero di riuscire ad essere abbastanza spero di riuscire a trasmettere l'importanza che questa donna ha avuto in questo ambito di trasferire l'importanza di questo ambito di trasmettere e quindi di far appassionare altre persone a questa storia e a questa scienza ancora poco considerata cosa posso raccontarvi di noi farmacisti? allora in realtà le cose simpatiche che ci succedono in farmacia sono soprattutto legate a quello che ci viene chiesto e al modo in cui i clienti ci chiedono le cose ci sarebbero si potrebbe parlare ore per raccontare aneddoti buffi su questo argomento vista però la situazione e visto anche gli esempi che ho portato prima riguardanti diciamo la discriminazione o le microaggressioni vorrei invece far notare il lato positivo dei clienti proprio qualche settimana fa una nostra cliente è venuta in farmacia e una volta che ho finito di servirla mi ha guardato e aveva addirittura gli occhi lucidi e mi ha detto grazie grazie dottoressa per quello che fate perché in una situazione come questa dove siamo tutti preoccupati impauriti spesso anche nervosi o un po' maleducati voi comunque continuate ad essere gentili carine disponibili e sempre pronte ad aiutare tutti noi un'affermazione del genere ovviamente mi ha fatto un grande piacere perché esistono anche clienti che riconoscono il nostro lavoro soprattutto in una situazione come questa di emergenza sanitaria dove noi eravamo appunto in prima linea lavorare anche in condizioni non del tutto diciamo consone e dove qualcuno ha riconosciuto il nostro impegno e anche la difficoltà che avevamo noi nel continuare a comportarci come se nulla fosse nonostante la situazione non coinvolga solamente i clienti ma coinvolga anche noi questo è qualcosa che spiega come i clienti barra pazienti siano il mio lavoro sia nel bene che anche nel male e per concludere e per spiegare quello che magari è il lavoro di farmacista mi piace ricordare il simbolo che portiamo attaccato al camice il caduceo è costituito da due serpenti che si intrecciano intorno a un bastone un bastone alato i due serpenti vanno a rappresentare l'uno la dose farmacologica quindi la dose della sostanza che ha azione e quindi di conseguenza il farmaco l'altro serpente invece indica la dose invece quella dannosa e quindi praticamente il veleno il farmacista all'interno del caduceo è rappresentato dal bastone alato cioè un bastone che si eleva al di sopra dei due serpenti come il farmacista si eleva al di sopra delle dosi in quanto conoscitore dell'una e dell'altra dose questo era un aneddoto carino relativo a una cosa che magari tutti vedono attaccata al nostro camice ma che in realtà nessuno di preciso sa che cosa significhi allora questo è un aneddoto che mi piace sempre raccontare perché è una cosa molto secondo me sia divertente però molto molto carina tutti noi sappiamo e usiamo tutti i giorni degli strumenti elettronici e tutti noi ci lamentiamo più o meno tutti i giorni che qualcosa non funziona che qualcosa non va come dovrebbe andare oppure oh mio dio il programma crasha perché e poi diciamo la famosa frase potrebbe esserci un bug ecco proprio sulla parola bug mi piacerebbe soffermarmi è una cosa successa moltissimo tempo fa quando i computer non erano i computer che vediamo adesso quindi un pc che ti puoi tenere tranquillamente in borsa o il cellulare che tieni in tasca ma erano stanze intere di transistor e altre cose elettroniche tutte messe lì insomma occupavano stanze intere e immaginatevi quando non funzionava qualcosa cosa voleva dire trovare quel transistor che si era bruciato o quella roba che non funzionava più e la parola bug deriva proprio da questo era una una donna una donna che stava lavorando mi sembra se fosse Grace Hopper non mi ricordo l'anno preciso comunque non riuscivano a capire perché qualcosa non stesse funzionando insomma stava andando un po' tutto male e guardando tra tra i vari cosi prima insomma guardando dentro ci hanno trovato insomma un insetto morto e mi ricordo proprio la foto che c'era nel nel mio libro di informatica tra le cose tipo riquadratini quelli di di approfondimento insomma c'era la foto di questo insettino incollato in un quaderno con su scritto tipo che era stato trovato un bug e da quel momento insomma si usa come come termine per indicare che c'è un problema nel in un programma che c'è un problema in un'applicazione che c'è un problema insomma da qualche parte bisogna risolverlo trovarlo e boh è una cosa che ho sempre trovato molto molto carina e interessante e boh basta non me ne vengono in mente altri in realtà di aneddoti in questo momento e spero che appunto vi sia piaciuto niente ragazzi siamo arrivati alla fine è stato bellissimo almeno per me sono super orgogliosa di questo video non tanto per quello che ho fatto io ma perché davvero vi racconto un'neddoto tanto questo video sarà già durato 28 ore e questo video doveva uscire due anni fa avevo trovato le mie amiche eccetera ma non riuscivamo mai a farlo quindi io non vedevo l'ora e mi è bastata una story su instagram e ho trovato tutte queste ragazze disposte a raccontarsi e a raccontarci qualcosa in più su di loro quindi sono davvero super super felice di questa cosa e penso sia davvero un progetto d'oro non lo dico perché mi vanto delle cose che faccio anzi io non lo faccio mai però sono super super orgogliosa e contenta e spero che sia stato interessante scoprire tutte queste storie tutta questa realtà anche soprattutto anzi direi grazie alle esperienze di tutte queste ragazze meravigliose che lavorano nella scienza e direi che magari anche tutti noi possiamo interessarci un po' di più seguire gli sviluppi e capire come queste cose possono migliorare nel corso del tempo direi che davvero per oggi è tutto e davvero sono super felice quindi spero siate felici insieme a me di questa cosa perché ci tenevo molto ci tenevo soprattutto a fare che ci tenevo soprattutto a fare in modo che questo fosse un video che racconta le donne nella scienza nello stato attuale delle cose e non volevo che fosse il classico tipo panel all'università durante le conferenze o video e live fatte da altri creator dove si parla di donne nello stem poi parlano gli uomini mi faceva un po' strano detto ciò e come sempre il Feminist Friday continua anche su Instagram se voi postate una foto sul feed con l'hashtag Feminist Friday io lo riposterò nelle mie stories come sempre spero sarete in tanti e in tante e direi che per oggi è tutto per questa rubrica noi ci vediamo fra qualche venerdì insomma per i prossimi Feminist Friday di nuovo super grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato vi lascio tutti ovviamente spero che ovviamente super grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato perché la loro presenza e il loro contributo è stato super prezioso e io apprezzo moltissimo so che debuttare su YouTube non è una cosa semplice per tutti quindi grazie grazie di cuore detto ciò per tutto il resto noi invece ci vediamo al prossimo video ciao